Cosa stai leggendo di bello? Adesso ce lo racconto perché siamo pronti a partire anche oggi con questo appuntamento della macchina del tempo. Vediamo se riusciamo a individuare la sigla. Stai oggi sono un po' lento, sono un po' anch'io indietro nel tempo. Siamo un po' indietro. Ma sì, ma di parte. La macchina del tempo. Notizie dall'altro secolo. Le notizie dall'altro secolo, grazie come sempre. A chi le ha pubblicate? Ah, esatto. A chi 120 e passa anni fa. 120 anni fa, sì, anche di più. Le notizie raccontava quello che accadeva a Piacenza, non solo perché poi c'erano anche i tre filetti di cronaca nel mondo. Ad esempio, 1895, in Francia scoppia l'affare Dreyfus, camoloso claso politico-giudiziario, quello in cui è stato fatto anche un film, su un po' quello che era il razzismo religioso all'interno dell'esercito francese. Se ne è parlato poi in tutto il mondo. Mentre nel 1891, un pochino più indietro in Russia, inizia la costruzione della Transiberiana in Gran Bretagna, introduzione del riposo festivo e della tutela dei salari. Si introduceva il riposo festivo. La Transiberiana, dicevi, in Russia, mentre in Gran Bretagna... La TAV l'avevano già fatta, no? Perché era partita anche la TAV, secondo me era. Non trovo, non trovo la notizia. Secondo me era partita. Senti, cosa è accaduto a Piacenza invece di Curioso? Un giornale totalmente esaurito. Era il 10 di febbraio del 1895 e la libertà pubblica, questa richiesta ai suoi lettori, un po' particolare, dice, ai cortesi abbonati, lettori del nostro giornale, era molto gentile, quindi può dire, ai cortesi abbonati, rivolgiamo la preghiera di volerci favorire, qualora non ne conserviamo per conto loro la raccolta completa. Il numero della libertà del 10 febbraio scorso, essendocene esaurita l'edizione, insomma cercavano una coppia del loro giornale, che loro avevano tenuta via, poi l'hanno trovata perché altrimenti non avremmo avuto. Va bene, io invece vado sul po', vado sul po'. Allora, siamo nel 21 luglio 1887, la Nino Bixio, nuova barca per Venezia, la Nino Bixio vara una nuova stupenda barca che battezza nel corso di una cerimonia col nome di Gulnara, dal nome della schiava del corsaro di Byron. Lunga 10 metri, è stata costruita appositamente per le regate di Venezia, ma sempre nel 1887, dicevo per par condicio, reperti romani sulla riva del Po, i soci della Vittorino da Feltri, che è l'altra canottieri, trovano sulla riva destra del Po, la riva piacentina, dove secondo alcuni storici… L'altra è la riva Magotta, esatto, definiamo, si sarebbero trovati, esatto, non si trova niente, no, di qua c'era addirittura, dicono l'emporio romano, aperto ancora con i romani che erano lì a vendere. E trovarono reperti antichi come oggetti in bronzo, orcioli in terracotta. Orcioli, sono degli orci, cioè praticamente delle cose in terracotta dove si mettevano dentro, servivano per raccogliere le creme. Esatto, e monete dell'età imperiale, 5 agosto 1887. Pensa che invece Piacenza, proprio sempre in quel 1800, in questo caso 95, non aveva più sale. E in una lettera al giornale uno dice, signor direttore, allora, non so cosa sia diventata Piacenza, questo è il classico piacentino. Allora, mi pare sia ora nulla più di mortizza o di gariga. Cioè, andiamo, ma meglio mortizza, ma dice, si figuri che nelle privative manca persino il sale, quel sale che usiamo noi sorbettieri per la fabbricazione dei gelati. Quindi dice di essersi rivolto al magazzino del sale, è statale, e di essersi sentito rispondere che forse può trovarne a Parma o a Genova addirittura. Come fa questo a fare i gelati? Non so come ha fatto, ha avuto un grosso problema, insomma, questa carenza di sale, esatto. Nonque, il carcere, siamo nel 1888, il 18 maggio, il nuovo carcere è ultimato, ma mancano i carcerati. Il nuovo carcere è da tempo ultimato, fa presente libertà. Non si possono portare dal tempo. Manca gli inquilini, scrive, ne arriverà, saranno arrivati. Cosa si aspetta? Si chiede il giornale a trasferirli nei nuovi locali, liberando così i locali malsani e antigenici delle vecchie prigioni che si trovavano allora presso il municipio. Senti, adesso, attenzione qui, atmosfera, perché ti parlo di un dramma d'amore ed è anche un dramma sanguigno. Ah, molto passionale. Purtroppo sì. Sanguinosa tragedia in via Crosa. Furriere, spara contro un compagno, ammazza l'amante e poi si suicida. Un dramma della gelosia, consumato da colpi di pistola. Sembra di vedere il tango, se non ci fosse questa sangue. Lei era di Borgonovo, attenzione, separata dal marito, conduceva una vita molto libera, dandosi in braccio a facci di amori, eh? Tanto che il suo alloggio era un albergo a ore, scrivono, dando proprio sputtenata. Lui, un senese che aveva visto un comilitone uscire dalla stanza di lei, estratta la pistola a sparare contro l'altro soldato, verendolo gravemente, e spacciare la donna con un colpo al cuore e se stesso con uno alla tenda. È tutto un affare di pochi stati. Un affare di cuore. Una tragedia molto violenta. Adesso invece un'altra tragedia più simpatica. Ambulante dice ho perso la moglie. Un ambulante è arrivato da Alexandria con la moglie e dopo un po' mica subito. Si reca in questura per dichiarare un curioso smarrimento. Non trovo più mia moglie. Primo maggio 1890. Io conoscevo di persone che hanno lasciato la fidanzata, che avevano portato in Vespa all'autogrill. Quando ancora c'era un'autostrada un po' libera, quando si poteva cercare... Per caso. Per caso sono ripartiti da soli. Capita a volte che... A dove è mia moglie? Attraverso un attimo di distrazione. Isterismo o magia? Fossadello di Caorso. 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 Una ragazza di 13 anni, tre mesi orsono, mangiò una mela. Ha molto fame. Ti amo. Una mela regalateli da un compaesano. Da quel giorno ella perdette completamente l'appetito e si rifiutò di prendere assolutamente cibo di solda. Ogni cibo di solda. Si tratta di un caso di isterismo, visto che la ragazza, alta e robusta, dice di non poter mangiare. Se non glielo ordina, il giovanotto che le diede la mela. Alla fine però, sia pur con molti stenti, tornerà alla normalità. A me questa mi sta di una storia d'amore che magari i genitori... Che morivano così. Forse c'era la possibilità di incontrarsi. I genitori un po' di mezzo. Senti. Ma rimaniamo sulla frutta. Un'uva da 10 lode, 9 giugno 1888. Molte lodi per le uve piacentine all'esposizione emiliana. Il besgano, delle ditte Barilli e Faimali di Piacenza, e quello rosso dei fratelli Carini di Sariano di Grapparello. Il besgano. Il besgano. Interessante. Nome interessante. 1888. Interessantissimo. Stiamo per chiudere, direi, ma arrivano. Ne avevo annunciati nei titoli. Gli amanti diabolici. Aia. Di Ponte dell'Olio. A Ponte dell'Olio. Due amanti che le cronache moderne di allora... Sì, moderne 1895. Definirebbero diabolici. Effettivamente le cronache non sono cambiate. Anche oggi, nel 2022, le definiamo diabolici. avvelenano mortalmente il marito della donna, mettendo sostanze mortali nel cibo e nelle medicine, e cercano di farlo anche con la moglie dell'uomo. Cioè, ognuno con il proprio... Con il proprio congiunto. Ma quest'ultima, la moglie dell'uomo, sopravvive. E grazie alla sua testimonianza, i due assassini vengono condannati all'ergasto. Anche oggi, direi, ma anche diabolici. Diabolici. Esatto, esatto. E poi, una volta c'è stato un film, questo l'avrebbero anche chiamato, di voce. Ah, sì. Sì. Quindi, ringraziamo tutti quelli che ci stanno ascoltando. Vi ricordiamo che La Macchina del Tempo esce tutte le domeniche per tenervi compagnia, per farvi fare un waltzer a ritroso in questa cronaca piacentina di 120 anni. Poi andremo pian piano avanti con i decenni. Chi vuole partecipare, chi vuole mandarci delle notizie su Piacenza, perché li sapeva dei nonni, mi fu chioccio la Radio Raccontiamoci.net, ci farebbe molto piacere che partecipassero. E quindi, ci rivediamo al prossimo appuntamento con La Macchina del Tempo su Radio Raccontiamoci. La Macchina del Tempo. Notizie dall'altro secolo. Radio Raccontiamoci APS, edizioni digitali in condivisione.